Ben trovati dalla redazione del Tgmed, l'approfondimento di oggi è incentrato sul diritto del mercato, ne parliamo con un esperto, l'avvocato Alessandro Palmigiano, ben trovato. Ben trovato a voi, grazie. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un report, segnalazioni di clienti, di giuristi, di colleghi sugli studi che in qualche modo rappresentano un'eccellenza nel panorama del diritto e tra questi studi c'è anche quello dell'avvocato Palmigiano. Intanto è un riconoscimento che, vista la lunga storia, tutto iniziato con il padre, va a dare ancora di più merito al lavoro svolto in questi anni. Sì, è una cosa che ci ha riempito di grande gioia e orgoglio perché a Palermo sono stati segnalati i settori in cui il Sole 24 Ore individuava le eccellenze, quelle che ha ritenuto le eccellenze, erano vari. In Sicilia, o credo per l'esattezza a Palermo, sono circa nove gli studi. Il nostro è stato menzionato in ben quattro settori, quindi il diritto bancario e finanziario, il risarcimento d'anno, il contenzioso e come, diciamo, territorialità, come presenza territoriale del Sud. Quindi credo siamo stati gli unici a avere quattro riconoscimenti ed è quindi una cosa che mi riempie di gioia, non solo per me, per la memoria di mio padre, ma anche per la squadra dei ragazzi, degli avvocati che sono nello studio. Sono una decina di professionisti, sono tutti giovani, molto preparati, attenti. Ed è grazie a loro che abbiamo ottenuto questo risultato che veramente ci riempie d'orgoglio perché in alcuni settori ci mette accanto a, fra virgolette, dei mostri sacri, cioè degli studi di grande caratura non solo nazionale ma anche internazionale. Ecco il motivo della mia gioia. Le quattro eccellenze, abbiamo detto bancario e finanziario, il risarcimento d'anni e condominio contenzioso e arbitrato è appunto territoriale relativo al Sud. È chiaro che ci vorrebbero giorni interi per poter analizzare la quantità enorme di casi che arrivano nel vostro studio e che nella maggior parte delle volte hanno anche un epilogo assolutamente positivo. All'interno di queste categorie, per esempio nel bancario e finanziario, tra l'altro è tra i pochi nell'elenco che è dal lato dei clienti e non delle banche. Sì, perché quasi tutti gli studi menzionati in questa categoria dal sole 24 ore sono studi appunto o con sede principale a Roma o a Milano e quasi tutti, al 90%, forse sono dal lato delle banche. Quindi invece il nostro è uno studio che si caratterizza per essere nel settore bancario dal lato delle imprese o dei cittadini o dei correntisti, perché effettivamente quello del settore bancario è uno dei settori in cui il nostro studio si occupa in maniera particolare perché grazie al cielo le banche non si sono fatte mancare in questi anni una serie di definiamoli illeciti, non perché lo dico io ma perché l'ha detto la Cassazione. C'è stato un grande cambiamento giurisprudenziale e quindi spessissimo le banche hanno applicato dalla famosa capitalizzazione trimestrale che noi ce ne occupavamo proprio tantissimi anni fa per conto di un'associazione dei consumatori che ne vietò tramite una sentenza storica il Tribunale di Palermo, l'uso alle banche, ma poi sono intervenute tante pronunze della Cassazione che hanno stabilito che molte voci di addebiti, molti addebiti nei conti correnti o la mancanza di firma, di sottoscrizione nei contratti, determina il fatto che la banca debba restituire una serie di somme illecitamente addebitate. Questo cosa significa in pratica? Che noi abbiamo avuto casi non sporadici in cui la banca chiedeva 200.000 euro e poi in realtà rifacendo i conti dopo la causa ne doveva 200.000, cioè quindi sono effettivamente delle somme a volte importanti, ovviamente dipende dal tipo di conto corrente, dalla movimentazione che ognuno ha, è chiaro stiamo parlando in quel caso di imprese che avevano affidamenti, somme per cui generavano spese a debiti in maniera importante e in maniera importante poi il Tribunale ha ritenuto debbano essere restituiti. Anche in materia finanziaria, lì riguarda più che altro i cittadini, è cambiata l'ottica di impostazione da parte delle banche, si è persa, me lo si faccia dire, non sempre, non in tutti, però a volte un po' di moralità, pur di arrivare al profitto, gli istituti di credito a volte vendono dei prodotti che non sono assolutamente adeguati alla clientela, pur di avere il singolo per avere una promozione, per avere un incentivo, perché la direttiva della direzione di vendere quel prodotto. Quindi abbiamo avuto casi, ad esempio, di prodotti che scadevano a 20 anni, rischiosi, venduti alla pensionata di 85 anni, quindi voglio dire, le auguravo alla banca che arrivasse a 105 anni, però un bell'auspicio. Sarebbe stato auspicabile appunto, c'è da dire che negli ultimi tempi anche le banche che al loro modo e probabilmente con una parte di responsabilità sono state coinvolte comunque in una truffa, quella famosa truffa degli sms con la richiesta di credenziali. Ecco, anche da questo punto di vista, quanto c'è di colpa, se così la possiamo definire, non ci permettiamo di dire dolo da parte degli istituti di credito nel non monitorare un flusso tale di informazioni. Ma sicuramente da parte degli istituti di credito per ora si moltiplicano queste truffe. Le banche hanno una posizione abbastanza, dicono, vabbè, ma noi vi abbiamo avvisato, dovete stare attenti a chi date le vostre credenziali. Però, per esempio, in questi casi di smishing, che cosa accade? Arriva un sms con l'addizione della banca, perché appunto, quindi corrisponde a quegli sms che riceviamo per confermare il bonifico. Per cui, francamente, non riteniamo di essere frodati. Cioè, in buona fede, magari la persona disattento, magari di fretto, la persona anziana si preoccupa, riceve quell'sms, quel messaggio da quella che ritiene essere la propria banca e magari segue le indicazioni dell'operatore. Quindi, sì, avrà sbagliato il cliente, probabilmente c'è un suo cosiddetto concorso di colpa, ma vorrei capire come mai la banca, qualcuno, sapeva che io ero correntista di quella banca. Perché se mi è arrivato il messaggio, evidentemente, le informazioni, che delle informazioni sono uscite fuori, probabilmente dalla banca. Quindi c'è principalmente una loro responsabilità, oltre che se queste truffe si moltiplicano, bene, si trovi un altro sistema per evitarle. Non è che la deve piangere sempre solo il cliente. Entriamo nell'ambito del risarcimento dei danni. Ci concentriamo in prima battuta sulla materia della responsabilità medica da entrambe le parti. Soprattutto in questo periodo anche di pandemia si sono moltiplicati i casi, qualcuno anche legato all'inoculazione dei vaccini. Sì, diciamo che anche un altro settore che ci vedeva coinvolti era quello del risarcimento danni. In realtà questi casi sono di tanti, è chiaro, e di carattere diverso. Uno, per esempio, è quello della responsabilità medica. Noi ce ne siamo occupati sia a volte dal lato del paziente, ma a volte anche dal lato del sanitario. Non è facile, francamente. Ogni caso è storia a sé, veramente. Perché se da un lato è facile, nel momento in cui poi accade qualcosa di nefasto, risalire alle cause. È come se io perdo la causa e c'è la sentenza, chiunque dice, ah, ma l'avete sbagliato perché doveva fare A, B, C e D. C'è da dire che però a volte ci sono delle responsabilità veramente gravi, cioè degli errori comunque importanti da parte di alcuni sanitari, e quelli ovviamente vanno sanzionati. Oltre a la responsabilità delle strutture sanitarie, come per esempio stiamo seguendo questo caso della professoressa Pennisi, che è della professoressa, che in realtà riguarda anche il consenso informato, cioè probabilmente lì c'è stato un difetto di comunicazione e di informazione sul vaccino prodotto dall'AstraZeneca. Non vi era informazione sul fatto che potesse causare delle trombosi, cosa che ora si sa, ma all'epoca no. È chiaro che bisognerà determinare il momento in cui questi casi si sono sviluppati, certo che pure là nei prodotti sanitari ci vuole un'attenzione e una diligenza massima, perché diciamo quello che coinvolge è la salute delle persone, in questo caso poi c'è stato un decesso, quindi l'attenzione deve essere massima e totale delle regole e di rispetto dei diritti del paziente. In tema di risarcimento danni c'è sicuramente un altro di quei casos belli che molto spesso vengono poi citati anche dalle cronache, le famose buche stradali con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale di turno che probabilmente è responsabile della cattiva manutenzione e soprattutto nella maggior parte dei casi poi c'è sempre un rimpallo clamoroso di responsabilità. Anche questi sono dei casi particolari. Sì, pure lì sicuramente per quanto riguarda la città di Palermo mi riferisco nello specifico a questo. Sinceramente senza voler entrare in questioni politiche le strade non sono messe bene, nel senso sono spesso sconnesse. Questo fa sì che magari il proprietario e il comune possano dire sì, ma proprio perché sono sconnesse tu devi saperlo. Ma indubbiamente ci sono una serie di pericoli occulti, di difficoltà. L'altra volta in moto io ho visto un ragazzo che stava cadendo, per fortuna no, perché proprio a un certo punto c'era un enorme buca nel manto stradale. È chiaro che quello non è prevedibile, quindi se una persona si fa male per un fatto del genere è chiaro che il comune come ente proprietario della strada lo deve risarcire. Poi c'è un problema di rivalza. Se c'è un soggetto che la rappola o chi sia a cui il comune ha affidato la manutenzione nelle strade, poi si potrà rivalere. Ma intanto ci deve essere una sua responsabilità. Ora, per esempio, inizieremo pure un contenzioso relativamente agli episodi di allagamento del 14 luglio, quando molte macchine finirono in un sottopasso che fra l'altro è qui vicino alla sede di TRM. Abbiamo visto che adesso il comune ha installato dei semafori che indicano il fatto che il sottopasso sia allagato. Ma, mi chiedo, non poteva essere fatto prima. Cioè, questi semafori, nel momento in cui il sottopasso si allaga, mettono un segnale rosso in maniera che le macchine non arrivino e non finiscano lì sotto. Pure questo, siccome sostanzialmente, secondo noi, i dati strutturali di cui siamo venuti in possesso indicavano che l'assetto fognario non consente il deflusso di una certa quantità di acqua, se questa è abbondante, e allora i rimedi dovevano essere trovati prima. Se no c'è una responsabilità. Le farei parlare di condominio e di problematiche condominali, ma anche lì ci vorrebbe un'enciclopedia a parte. Sì, francamente noi, ora io non so francamente se siamo solo noi siciliani o italiani litigiosi o lo sono poi in tutta Europa o in tutto il mondo, però sicuramente il condominio, avendo un'aggregazione di persone, persone diverse per cultura, per natura, determina veramente un continuo contenzioso, dal più banale al più importante. Una strada, purtroppo, che spesso non ha seguito positivo è quella della mediazione dell'accordo, però per cui le cause in realtà condominali sono tante, incidono e appesantiscono senz'altro la giustizia, forse dovrebbe essere trovato un sistema alternativo per gestirle. Parliamo invece di contenziosi, quindi l'argomento anche questo molto ampio, dalla contrattualistica alle locazioni e anche qui poi ci sono variegate sfaccettature nel merito. Sì, è chiaro che quello che il contenzioso può essere anche prevenuto, non sempre, ma è una cosa importante che fanno le aziende, capisco che spesso è un onere da sopportare, cioè un costo, quindi non è facile, anche il privato, magari deve fare il contratto di locazione, se lo prende da internet, capisco per carità che lo fa giustamente per risparmiare, perché andare da un avvocato ha un costo, però laddove magari il contratto sia più importante, o economicamente o anche psicologicamente, perché c'è gente che per quella cosa, magari seppur di valore economico modesto, ma non ci dorme la notte. È meglio farlo vedere a un professionista, da un avvocato, da un professionista qualificato, perché in quel caso riesce a prevenire e a inserire quelle clausole giuste, che poi, adeguandolo alla situazione corrente, che poi magari evitano, nel caso in cui ci siano delle contestazioni, evitano il contenzioso, o comunque, se c'è poi una causa, fanno trovare giustizia, quindi danno la strada giusta da seguire al proprio cliente. Andiamo sull'ultima tranche di queste eccellenze indicate dal report del Sole 24 Ore ed è la territorialità al sud, con tantissimi servizi, anche in questo caso, nell'ottica, per esempio, di una riduzione dei costi per il cliente. Sì, questo è un fatto, secondo me, importante. Siamo lieti di essere stati individuati in questa categoria, ma, ecco, poco fa ne parlavamo assieme, se c'è un aspetto positivo in questa pandemia è stato proprio lo sviluppo della tecnologia. Da un lato, nel processo civile, ha fatto sì che le udienze vengano gestite tutte, almeno per ora, per iscritto, o comunque con delle applicazioni come Teams, quindi, diciamo, in videochiamata, diciamo pure così. Questo fa, da un lato, guadagnare tantissimo tempo agli avvocati, anche ai giudici, che magari stavano per un'udienza di un minuto in attesa davanti a un corridoio ore e ore. Dall'altro fa sì che uno studio legale del Sud possa operare al Nord senza avere delle diseconomie, cioè nel senso lo svantaggio territoriale che normalmente ci portiamo. Mentre gli studi, fra virgolette, al Nord importanti già operavano al Sud attraverso i cosiddetti domiciliatari degli avvocati cui appoggiavano le pratiche, adesso pure per gli avvocati del Sud diventa facile o possibile comunque proporre i propri servizi ad imprese o a clienti del Nord perché non abbiamo più lo svantaggio di spendere 500 euro e perdere una giornata di tempo per andare all'udienza a Milano perché l'udienza si fa per iscritto o si fa magari col telefonino e quindi possiamo essere competitivi anche rispetto agli studi del Nord perché detto francamente in molti settori gli studi del Sud studi di carattere tradizionale ma non hanno nulla non mi riferisco al mio per carità ma a tantissimi colleghi siciliani tantissimi colleghi del Sud che non hanno veramente nulla da inviare a studi blasonati o di carattere internazionale del Nord e Centro Italia. È una domanda che di solito non si chiede ad un professionista ma a noi fa piacere pensare che ci sia un argomento una causa, un fatto al quale l'avvocato Alessandro Palmigiano si è particolarmente affezionato magari chissà per un coinvolgimento anche personale quindi le chiediamo questa confidenza. Ma le cause che ho ricordo con grande passione sono le prime che io feci all'inizio delle mie carriere quando si facevano le cosiddette furono le prime azioni inibitorie cioè le associazioni di consumatori potevano agire nei confronti di grandi aziende per chiedere di far dichiarare al giudice, al tribunale non valide alcune clausole è proprio una che seguimmo con quello che era presidente dell'associazione di consumatori che si chiama Betto Romano contro Enel è una causa che fu la mia prima causa importante perché il giudice, il collegio l'allora giudice Conti l'allora nel senso che operava a Palermo ora è un magistrato di Cassazione stimatissimo fece una sentenza interessantissima in 60 pagine che finì pubblicate oltre che su tutti i quotidiani nazionali ma soprattutto finì commentata tutte le principali riviste giuridiche italiane per me che avevo appena iniziato la professione con accanto mio padre fu chiaramente un grande un successo ed è un bellissimo ricordo grazie grazie all'avvocato Alessandro Palmigiano esperto di diritto del mercato in bocca al lupo si può dire crepi crepi assolutamente grazie anche a voi per averci seguito in questo approfondimento del TG Med arrivederci alla prossima grazie a tutti